Ah, no? Grazie, ragazzi. Dicono che faccio piuttosto bene. Ed è vero. L'anilol da solo fa effettivamente pene. Ma, dopo una profondita analisi microscopica, ho scoperto che ha una piccola debolezza. Quando viene investito da un impulso elettromagnetico, diventa estremamente pericoloso. Un sorriso per la telecamera. Ti basta un sorriso? Posso fare di meglio. Ed è molto interessato a questa telecamera sulla piattaforma petrolifera. Ora potrai assistere al suo vero scopo. Non vedo l'ora, professore. Hai parlato con parecchie auto ieri sera. Quale di loro è il tuo compagno? Tua madre. Oh, no, scusa, era tua sorella. Sai, di questi tempi non le distingo più. Posso procedere, professor Zeta? Potenza al 50%. Questa telecamera in realtà è un trasmettitore di impulsi elettromagnetici. E questo qui? È a lui che l'hai dato? L'alino sta raggiungendo il punto di ebollizione. Espandendosi in modo drammatico, la pressione incrina il blocco motore e spinge l'olio nella camera di combustione. Allora, è questo qui? Hai parlato con lui? Che cosa me ne importa? Un blocco motore si sostituisce? Si può anche darsi, ma dopo il pieno impatto dell'impulso, purtroppo, non ci sarà più niente da sostituire. È questo qui? L'hai dato a lui? È lui. È quello lì. Ricevuto, professore. No! Sì, signore. Riteniamo che l'infiltrato abbia trasmesso delle informazioni riservate. Me ne occuperò prima che possa arricarci del dandico. Procediamo come da programmare. Voi trovate il secondo accento e uccidetelo. Voi trovate il secondo accento e uccidetelo.